Non sei un combattimento con il Lord Regente, devi credermi. Mi servono rinforzi! Qualcuno venga in mio soccorso! Aiutatemi! Aiuto! Il suo saldo, maledetto! Aiuto, assassino! Ora sei via! Colpitelo da gambe! Liberti! Aiuto! Ho bisogno di aiuto! Ecco di cui! Guarda! Il tuo cuore impasta ai cani! Liberare! Ecco di cui! Aiuto, assassino! Per chi lo uccide! Ah! 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 Fuoco! Ah! 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 Ah!